ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovissimo video di mini world oggi siamo nella serie di tutorial oggi vi mostrerò come creare una skin personalizzata ebbene si si può fare con la propria faccia o più o meno diciamo io non l'ho fatta personalizzata perché mi piace di più una dove non posso far vedere me stessa allora per farla dobbiamo andare a negozio prima sono uscita però dobbiamo andare a negozio e andare a costume vedete a sinistra andiamo a costume e ci apparirà questa schermata quella che avete visto all'inizio per farla personalizzata ovviamente qui potete scegliere tutto sotto le mini monete c'è un segnetto verde io in questo caso ho 0 mini monete perché le ho spese tutte non per prendere questo ma per prendere questo qui e l'ho voluto prendere non lo so come sono l'ho voluto prendere comunque andiamo a schiacciare al testo verde sotto le mini monete e ci apparirà tutto questo allora adesso noi io mi sto spessando un po' perché qui mi si aprirà aprirà non so dire aprirà aprirà vabbè mi si aprirà la fotocamera e quindi qui ci dice tutti i passaggi che bisogna fare e noi dobbiamo leggere io ho già letto tutto e quindi lo scrippo diciamo così ok adesso andiamo a schiacciare a aprire la fotocamera adesso mi appare la fotocamera io in questo caso ho lo sfondo diciamo così tutto bianco davanti voi però diciamo vedrete vedrete la vostra vedete voi stessi qui a sinistra abbiamo la nostra skin che man mano si personalizzerà e adesso andiamo a schiacciare in basso a sinistra prossimo passaggio e adesso mi dice il corpo anteriore e devo girarmi diciamo se fossi davanti a me mi devo girare per mostrare la parte dietro la parte anteriore della skin e andiamo a schiacciare prossimo è l'ultimo passaggio e ci dice dietro back body adesso dobbiamo schiacciare prossimo passaggio oppure indietro come volete voi prossimo passaggio e ci dirà ci mostrerà la nostra skin fatta e noi dobbiamo schiacciare o completa se ci va bene diciamo ci assomiglia se vogliamo farla assomigliare oppure possiamo schiacciare indietro e modificarla rendendola ancora più bella o peggio non lo so comunque andiamo a schiacciare completa io in questo caso ecco ci apparirà questo continua 3 2 1 e ci apparirà la skin che abbiamo creato io non l'ho fatta cioè non l'ho creata la skin e quindi mi è rimasta quella più o meno più o meno gli occhi sono diversi e quindi mi è rimasta questa però fatemi sapere se se è una buona cosa fare cioè è una bella idea personalizzarla per voi oppure no allora spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi qui sotto sul sul mio canale al mio canale attivate la campanellina per non perdermi nessun video soprattutto video tutorial fatemi sapere se volete anche un video tutorial su come mettere le skin gratuitamente o personalizzate su minecraft non credo si possa fare con la faccia su minecraft ma si può scegliere il pantalone la maglia oppure la skin già fatta fatemi sapere qual è tutto ciò nei commenti e ci vediamo a un prossimo video ciao ragazzi grazie Grazie.